Ave Maria, grazie ricevuta per la mia famiglia. Un risentito e un amorevole divino. Grazie chiedo a te, Gesù divino, in questo giorno di grazie. Prego per te Ave Maria, piena di grazie. Signore, con te sia fatta la tua volontà, cosa in cielo e cosa in te. E nel Padre e nel Figlio e nel Spirito Santo. Amen. Grazie a te, Gesù divino. La vollezza, come una sorpresa. Grazie a te. Lupita, con poito. Un sanguin. 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 елau agi. Non è così, non è così, non è così, non è così. Dianna Simon Enzione 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 Chianti Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Oh babe Oh babe Non ciò che chiamava di piaccio Mi croce di piaccio è stato a dare L'uomo di tutti gli occhi Isso ai più sempre A tutti gli occhi Faccio aiuta Un piaccio Vedo la notizia Necce Il tuo tempo Un arribo Poi Ma Ti Ce Grazie a tutti. 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 a tutti.